e tre seghe isolato ci vorrebbe una conclusione da lontano per superare la difesa Umbra ed è naturalmente Nedved che vede e provvede 29esimo e super gol da oltre 25 metri ripetizione assolutamente doverosa di una rete degna della pallone d'oro nell'intervallo in un tripudio di slogan dedicati all'amore cieco dei tifosi bianconiri Nedved è il primo a scalpitare per tornare in campo